Quelle SPQR inarberate sul portone di quasi ogni palazzo, quelle sono quattro lettere del cazzo, che non vogliono di niente compitare. Ma ricordo però che da ragazzo, quando le gioco a forza defrustate, me le trovavo sempre appiccicate e rente in che l'arbre c'è, tutte in un mazzo. Un giorno al fine me ne venne l'estro di dimannarne un po' la spiegazione a Don Furgenzi, che era il mio maestro. Ecco che mi rispose Don Furgenzi, ste lettere vanno di Sorso Marone, sono i preti qui remelo, e silenzio.